Le borse europee archiviano in rosso la seduta odierna di scambi appesantite dall'esito della riunione della BCE. Gli indici delle principali piazze del vecchio continente, partite caute, hanno tentato un rialzo a metà mattinata per poi frenare dopo il discorso del presidente Mario Draghi che ha evidenziato un leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozone della BCE e ha annunciato la decisione di lasciare i tassi invariati al minimo storico. E mentre Wall Street procede positiva con il Dow Jones che avanza di mezzo punto percentuale, i mercati europei chiudono in territorio negativo con la sola eccezione di Francoforte. Piazza Affari è la peggiore e accumula perdite di circa mezzo punto percentuale.